Sarò ritraendo alcuni dei protagonisti della giornata di oggi, vuol dire che i posti mi sono presentati a Eme Poto, davvero tutte che s'hanno riportate indietro con gli altri. A dare la prima partenza sarà quest'oggi il dottor Luskinio, presidente della registruzione e partiremo tra poco con la batteria numero 2 della decisione della rievocazione storica che è il dottor Luskinio e partiremo tra poco con la batteria numero 2 della decisione della rievocazione storica del dottor Luskinio e rimastiamo dalla fabbrica Tanti che è stata la batteria numero 2 del passato.